E' pur sempre una ragazzina, eh? Cioè, lo stronzo doveva saperlo. Prendiamoci conto. Puoi rubare, è meglio che ti assicuri di poterla fare franca, no? Io avrei... Sono tutti morti! Tutti morti, cazzo! Di cosa diavo sto parlando? Calmati. Chi è morto? Tutta la squadra! Le 76 sentinelle! Qualche turista del cazzo li ha uccisi tutti quanti! Merda. Hai parlato quel capo? Sì, vuole che ognuno mantenga la posizione e che controlliamo il cancello. Ok, avete sentito. Cercate ovunque e non fate passare nessuno. Vabbè, se si dividono, diciamo che la situazione non è così malvagia. Sbagliato. Sulla morte della squadra. Non posso immaginare dei turisti che uccidono tutta la squadra. E se fosse vero, forse sono i militari che sono... Sì, 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 sì. Allora, è uno, è down. Nel senso che... Che non c'è, ma hanno down... Mi dissocio. Allora, controlliamo bene perché... Faccio una. Attenzione. Qua ne ho visto un altro. Ok, quello sta scendendo. Però, ecco, non va troppo lontana. Merda. Merda, 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 merda. Ok. Tu sei fottuto. Ok, qua la situazione è pulita. Ok, qui c'è un altro. Lì sopra ce n'è un altro, cazzo. Quello come lo prendo? Questo potrebbe essere un problema. Perché quello là sopra mi vede sicuro. Allora, devo prendere questi qua. Li devo prendere a solo. E mi sa che mi conviene di più utilizzare i coltelli. Qui sono più veloci. Avrei anche l'arco in realtà. Con l'arco dovrei shottarli da lontano. Quindi... Ecco, vedi, quello è là sopra. Però aspetta, perché qua posso... Posso fare snichi snichi. Attenzione. Ok. Il problema è che se faccio fuori quello, quello là sopra, lo vede che è morto. Quindi potrebbe dare l'allarme. Dove cazzo è andato quell'altro? No, là è. Fa un altro giro. Eccola. Eh, questo potrebbe essere un rischio. Merda. Però se lo faccio fuori... Se viene di qua, lo faccio fuori qua dietro. Non dovrebbe vederlo. Veloce, veloce, veloce. Bravo. Ok, qui dietro non dovrebbe vederlo. Credo. Se lo vede... Sono cazzo. Poi... Fatemi vedere. Allora, quello là sopra... Ecco. Vediamo se lo vede. No. Non lo vede. Ottimo. Girati. Bravo. Quello là in fondo non mi vede. Attenzione qua se c'è qualcuno. Esatto. Bravo. Vieni, vieni. Ti faccio vedere una cosa. Bravissima. Penso che qui sopra posso salire per andare a prendere quello lì. Giusto? Quindi questa è una buona occasione. Qui c'è qualcuno? Facciamo attenzione. Ecco, lì ce n'è una. Però aspetta. Quanto mi piacciono queste parti tutte... Tutte sneaky sneaky. Allora, questo qua non è il corridoio dove c'è quell'altro? Quello che era lì sopra che faceva da sentinella. Ecco, lo vedi? Quindi se io aspetto... Che venga qui dietro... Lo faccio fuori. E mi levo... Una sentinella da mezzo alle scatole. Questa è pericolosa. Che sta in alto. Mi vede, mi fa... Esatto. Bene. Questa. Madonna che tensione che mette sta cosa. Che in realtà non vorrei rovinare tutto. Controlla la Gio. No cazzo. E questo da dove è arrivato? Cazzo! Dove vi faccio? Merda. Ma da dove è arrivato questo? Vabbè, però ancora non mi hanno... Non mi hanno visto completamente. Hanno solo... Una sorta di allarme. Così, molto easy. Brava ragazza. Avanti così. Minchia, l'ha fatto fuori lei? No cazzo. Oh cazzo! Merda. Cazzo. Qui ce n'è un altro. Ma non valgono le prese. Che giustamente sono un'allarme, tipo. È come se fossero un'allarme. Va bene. Bastardo. Bastardo. Porca merda! Che cazzo sei mortale? Avete lanciato anche i fumogini? Bastardi. Che secondo me non ci vedo? Sono cieco, ma... Sono cieco, ma... No, no. Questa è la prima run per me. Ovviamente in attesa del due. Ciao, Kefka. Sì, diciamo che ne ho approfittato perché... Essendo che appunto adesso deve uscire il due... Ho detto, tanto vale. Me lo prendo adesso. Faccio la prima run. Così sono già pronto per... Sei morto, partardo! Quanti cazzo siete? Oh, merda. Così! Tra l'altro col joystick è bruttissimo mirare. Io non so come facciano a giocare... Col joystick certe persone... Ed essere anche brave. E poi... Alcuni sono anche bravi. Cioè, io ne vedo che sanno sparare un sacco di persone. Ah, su PS3 e su PS4 addirittura. Figo! Quindi ti è proprio pre... Ti è proprio... Ti è proprio piaciuto. Questo era bello scoperto. Mi sono finiti tutti i colpi. Ah, non è che scendi. Ma sono finiti. Minchia, non è mai. Comunque ce n'erano un casino. Meno male che un paio li ho tolti. Ah, gli stessi è ben o male. Sì, molti lo stanno rifacendo adesso. Perché giustamente... In attesa del 2. C'è chi si fa una rinfrescata alla memoria. C'è chi... Giustamente... Lo prova. Lo gioca anche. Che ne dici di qualcosa? Di un po' più adatto a te. È solo per le emergenze. Addirittura la pistola ti sta dando. Ok. Ormai quindi totale fiducia. Adesso c'è la sicura. Lo sai come si toglie? Certo. Ok. L'importante... È maneggiarla con cura. Non è un... Joel, starò attenta. Ok. Fighissimo. C'è proprio gli ha dato la pistola. Ormai proprio partner... Oh, Matteo. Ciao, Matteo. Cioè, ormai sono diventati... Cule e camicia praticamente. Andiamo a dargli addirittura la pistola. Allora, controlliamo se c'è qualcosa da... Da rovistare. Qui. Scambiare cosa? La mazza? Sì, sì. Che la mia non mai... Ok. Questo mi recupera un po' di salute. Poi... Qui cosa c'è? Vabbè, questo non mi interessava più di tanto, però ok. Qui però già ci siamo stati. Abbiamo... Abbiamo rovistato. Ok, questo lo prendiamo. Che prima non lo potevo prendere. Mi servirebbero delle munizioni in realtà adesso. Se ci faccio caso. Vabbè, questa la modifiamo. Vabbè, questo non lo posso craftare. Questo assolutamente sì. Ok. Oscillazione arma così. Siamo un po' più precisi. Già che faccio cagare col Joypad. Perché faccio cagare col Joypad. Oh, guarda, stavano cucinando. Che cazzo sono ratti? Stavano mangiando i topi? Sì, sono topi. Oddio. Topi alla brace. Beh. Addirittura, quanto metallo. Qui, aspetta. Aspetta, ho visto qualcosa. No. Scherzavo. Sì, sì, ok. Però fammi esplorare prima. Maledetti. Fatemi esplorare, cazzo. Fai la tua parte, Ellie. Vado. Ah, sì, che ora è lei che deve tirare. La catena è incastrata. Resulta. Ok, lo faccio. Vai. Ecco. Ok. Bella pensata. Bravo, Ellie. Va bene. Ora qua dovrebbe salire lei, giusto? Dove sei? E qua. Ti va di darmi una spinta? Eh, sì. L'avevo già visto. Ma io dirio vario. Diciamo che il mio canale è nato su giochi di ruolo. Quindi tutta quella che è la saga Final Fantasy e annessi. Giochi di ruolo, GRPG. Dai, oh. Forza, sali. Però ho spazio. Per esempio ho il The Last of Us che mi sta piacendo. Poi il prossimo che voglio portare sarà Borderlands 3. Che mi piace tantissimo. Cioè che lo volevo giocare già da un casino di tempo. Che deve fare? Perché non mi sale? Oh. Oh. Perchè non mi fa il coso per farla salire? Aiutami ad aprirla. Ecco perché. Cioè devo mettere questo? Ma guarda che copia mi dice una spinta e poi devo mettergli il coso. Vabbè. Ok. Importante che l'ho capito. Vediamo cosa abbiamo. Che miglioriamo qua. Bello Death Stranding. Anche a me piacerebbe... Cioè mi piacerebbe giocarmelo. Però Death Stranding da portare in live sinceramente mi sembra un po'... Mi sembra un po' noiosino. In realtà modificarmi queste cose... Sì per sbloccare la... Sì devi farla in difficile prima. Io sto giocando a normale perché mi interessa la storia. Più che altro. Cioè la run in difficile. Se me la faccio me la faccio per conto mio. A me interessa più la storia. Mi interessa tutto il resto. In realtà... L'arco potrebbe anche essere interessante. L'arco, l'arco... No ma in realtà l'arco non... Cioè anche la velocità di tiro. Non è che mi interessi più di tanto. La portata già potrebbe essere interessante. Magari una sì. La portata ok. Arrivo più lontano. Questo già è buono. Ecco, rinculo già. Anche questo potrebbe essere interessante. Soprattutto per il pompa. Questo va bene. Non c'è bisogno. Questi rinculo non ne hanno. Basta così. Ora sì che si ragione. Basta, basta così. Basta, basta così. Però... Ci sono pilloline. Per pomparsi. Easy. E io solitamente pure... Scrivimo la sera. Quindi... Dalle 9. Che merda. Sparano così a caso a persone che stanno bene? Che sono scena. Che stronzo. Giornate toste, eh? Facciamo anche. Merda, niente cibo. Scarpe vecchie. Un cazzo. Andiamo. No, così. Ok. Quindi l'abbiamo uccisa per niente. GG. Oh, cavolo. Non potevamo fare niente. Lo so. È solo... Cavolo. Cerchiamo di arrivare al ponte. Ok. Boh. L'uomo è una bestia. Beh, almeno non ho finalmente ucciso quei due. Sono sicuro che non si trova solo la città. Ora dobbiamo solo trovare la possibilità coppia dei città. Spero che ci fosse un esercito in quel furgone. Come cazzo hanno fatto a eliminare l'intera squadra laggiù? Continuiamo a cercare di cercare questa cosa prima del tramonto. Su, facciamola finita. Porca troppa. Allora, il tubo mi converrebbe da prendere. È molto più... Molto più resistente. Però... Però va bene così. Tanto questi due erano soltanto qua. Quindi basta. Tra l'altro ho utilizzato un coltello per essere veloce e l'ho presa nel culo lo stesso. Che quello mi ha visto. Però vabbè. Sti cazzi. Non male che ho l'arma modificata. Almeno... Però aspetta. Visto che qua si scende. Fatemi vedere se c'è qualcosa da prendere in giro. Anche se non credo, giusto? Però... Ecco, vedi? Attacco finale. Le abbiamo messi in fuga. La maggior parte delle loro forze si è ritirata su Liberty Avenue. Colpiamo a mezzanotte. Cogliete ogni elemento abile e armatelo. Se può stare in piedi allora può combattere. Chiunque si rifiuti di combattere con noi sarà esiliato. Chiunque aiuti l'esercito diventerà un esempio. Stanotte vorremo fine a questa tirania e daremo inizio alla nuova vita per noi stessi. Quindi ci stiamo avvicinando praticamente verso l'elite dei cacciatori. Quindi quelli che sanno combattere, quelli che sanno... Merda. Allora, qua non c'è nulla. Ce ne possiamo andare. Allora, qui c'è qualcosa da prendere. Direi di no. Bene, andiamo avanti. Qua cosa c'è? Ma non c'è nulla. Va bene. Allora, qui adesso dobbiamo stare attenti. C'è un tizio al primo piano. Lo vedi? Sì. L'ho visto. L'ho visto, l'ho visto. Stai giù. Allora, sono là sopra, quindi io se passo di qua non mi vedono. Ecco, da qua si può entrare, benissimo. È che sono tutti e due attaccati, quindi devo aspettare che si spostino. Allora, qua ce n'è uno, là ce n'è un altro. E qua non si può passare, giustamente, o serie di dire. Ah, ce n'è un altro ancora. Cazzarola. Questo è un problema. Merda. No, non venire verso di qua. Bravo, vai via. Anche a voi che si sono ecroggiati come delle bestie. Quello se n'è andato. Devo stare attenti perché se li vedono Eh, vedi, quello fa... Allora, quello fa avanti e indietro da lì dal corridoio. Questo fa avanti e indietro da qua. Questo invece fa solo avanti e indietro di qua. Quindi mi conviene andare da questo eliminare questo poi eliminare quello dal corridoio e poi infine eliminare questo qua tutto bardato come se non ci fosse un domani. è la cosa che mi conviene di più sempre se non mi beccano mentre ammazzo questo perché poi il problema è questo alla fine. ma sono proprio qua così attaccati giustamente direi E' a secco prendiamolo Cazzo Ma l'affanculo, vero? Madonna, i movimenti di merda Li odio i movimenti di sto gioco Troppo macchinosi Troppo macchinosi Ma che cazzo? Da dove mi ha fatto riprendere? What? Cioè mi ha fatto riprendere da qua? Ah là Ah ok Ma là c'è ancora il tizio Cos'era? Qui e qua giù! Ah il giubbotto di proiettile? Cioè io ho sparato ma ha fatto tipo il colpo vuoto di quello che aveva il giubbotto di proiettile? Minchia Questo potrebbe essere un problema Ah vaia Madonna Questo potrebbe essere un problemino Anche perché l'arco e freccia me le posso sbattere dove so io Comunque i movimenti sono macchinosi in una maniera assurda Penso che è l'unica cosa che abbia criticato di sto gioco per adesso Perché poi tutto il resto è bello come come gameplay come presentazione ambientazione tutto è veramente bello Però Ah minchia una trappola c'è addirittura qua Però l'unica cosa che mi ha veramente dato fastidio al momento sono i movimenti macchinosi minchia ma là è pieno e ma saranno tutti in allerta penso che hanno sentito gli spari vediamo se questo e di sarei curioso dell'arco e freccia nel vedere bravo a vedere cos'è Bellissimo Arco e freccia OP proprio Ehi amico ti senti Minchia ma questo è qua Dove sono andato? Ah qua Bravo L'altro dov'è? Lì dentro Ok Vediamo se lo riesco a raggirare Ok sta andando lontano Ci sono munizioni Hai trovato qualcosa Ma ci sei C'è qualcun altro di là No Che dà che questo viene verso di qua Non farti vedere tu mi raccomando stai ferma Merda Benissimo Non posso craftare qua Qua si Però Oddio chi è? Ah è lei E sta andando avanti così? Ah vuol dire che non c'è più nessuno Sì qua scambiamo l'arma che tanto la mia è quasi consumata Ok Qua cosa abbiamo alcol Poi Qui cosa abbiamo il mattone ma me ne frego La trappola Cazzo Madonna ci stavo sbattendo proprio in faccia Che normale che l'ho vista all'ultimo Là ce n'era un'altra trappola Qua prendiamo la freccia Ok Altro non c'è non c'è altro Là tra l'altro mi ricordano il fatto che nel global non abbia trovato hope E di no hope Eh grazie grazie per ricordarmelo gentilissimo Siete molto gentili Qua cosa abbiamo Bene proiettili ottimo Biglietto camion Che è sta cosa Abbiamo finito di perlustrare la città in cerca di sopravvissuti C'era un piccolo gruppo di soldati che si nascondeva nell'hotel Ce ne siamo occupati Alcuni di noi hanno dato l'assalto alla loro area di detenzione Quanto ne rimaneva La maggior parte dei macchinari più grandi sono stati distrutti nei combattimenti Non andremo in giro in carro armato tanto presto Per l'artiglieria pesante vale lo stesso discorso Non è recuperabile L'unica eccezione è l'unvi Siamo riusciti a ripararlo Compreso il calibro 50 montato su DS Questo affare è impenetrabile Voglio vedere adesso chi ci romperà i coglioni Non mi piace sta cosa Non mi piace come suona No no Non mi piace proprio Ok Penso che adesso posso fare i coltelli Ok Almeno avendone tanti utilizzi Vabbè me ne rimane uno e poi Per usare il coltello per aprire la porta Va bene Ok me ne ha tolto uno addirittura Speriamo che ne sia valsa la pena Perché comunque sì ci sono cose qua ma Ok sì ne è valsa la pena Assolutamente sì Ok Posso craftare coltelli però va bene ne ho perso uno ma non ho guadagnato un po' di roba Ah questi sarebbero i soldati penso Sì un attimo Tra l'altro questi hanno buttato giù i carri armadi addirittura Cioè come cazzo sono camminoni sono qui da fare schifo Va bene non penso ci sia altro da prendere quindi possiamo andare qui qui ok ecco va ci siamo quasi ci siamo quasi guarda ancora quanta strada c'è ok allora sono stata in un posto così nella ZQ di Boston iniziamo a controllare se c'è qualcosa da prendere quindi non ci può entrare mi sa non ci può entrare